... Ripartiamo sempre dal centro, ripartiamo dal cuore, recuperando le nostre radici perché abbiamo bisogno anche di nuovi germogli. I nuovi germogli sono convinto se rimarrà questo entusiasmo che li sta innaffiando al massimo, e soprattutto la voglia di credere ancora, di darsi fiducia l'uno con l'altro, di capire che insieme, collaborando, si possono superare anche i momenti difficili. Io sono convinto che i fiori che verranno fuori saranno fiori bellissimi che ci daranno ancora l'orgoglio di essere cittadini di questo territorio. Il futuro non sarà più nella competizione, ma sarà sempre di più nella collaborazione. La competizione ha fatto sì che nel mondo sempre più si stanno abbassando le marginalità del poter produrre profitto, mettendosi in rete e collaborando, anche con piccoli margini si riesce a ottenere grandi risultati. Il futuro sarà per forza collaborativo e le associazioni di categoria di questo territorio da tempo l'hanno capito e in Camera di Commercio siamo riusciti da tempo a fare sintesi su questo. Terra mia, festa del caldo, la campità non è in balonia. Domo mia, tu sei il via, che è un'istella in custo che l'u meravigliosa.